Che la storica cascata di acqua dolce si sia riappropriata del suo territorio e sia tornata a sgorgare dalla timpa è il dubbio che sorge guardando dal piazzale antistante il mulino verso il costone lavico, da qui è ben visibile. Ma di naturalistico invece rispetto a quanto sta accadendo a Santa Maria la Scala non c'è nulla. Anzi, da mesi, almeno due, il canale di emungimento dell'acqua che dalla sorgente Miuccio porta il prezioso liquido fino alle case degli Acesi è stato gravemente danneggiato a causa di frane. Massi pesanti quintali, dopo essersi distaccati dalla roccia, hanno spaccato la tubatura. La conseguenza è visibile in queste immagini registrate dal nostro operatore. Si perdono fino a 400 litri di acqua al secondo, acqua che si disperde e arriva direttamente a mare. Invece dalla sorgente dovrebbe percorrere circa 500 metri del canale che arriva alla pompa Miuccio definita anche e comostro dalle associazioni ambientaliste per il fortissimo impatto che l'ammasso di ferro ha sulla riserva orientata a Cese. Da qui il sistema di risalita per rifornire le abitazioni di San Cosmo, Santa Maria Ammalati e il centro nord di Acireale, Corso Italia, Corso Savoia. Sono tante le conseguenze che un danno del genere potrà comportare. Il rischio è di lasciare a secco i rubinetti delle abitazioni private perché l'acqua viene dispersa e non arriva all'impianto di emungimento. Il rischio è che la già critica situazione possa aggravarsi e possano verificarsi crolli e cedimenti. Il canale è stato gravemente danneggiato in tre punti. Tali sono le criticità visibili perché l'acqua fuoriesce copiosa, ma non è da escludere che la tubatura possa avere altre lesioni. Accanto ai rischi c'è lo spreco di acqua. Un bene primario disperso, senza cura e come se nulla fosse. Le domande si susseguono e una su tutte è perché nessuno è ancora intervenuto. Sei da mesi, come ci dice la nostra fonte, che il canale è danneggiato. La SOGIP, la municipalizzata che gestisce il servizio idrico e l'amministrazione comunale non possono non sapere quanto sta accadendo. Domani lo chiederemo a chi di competenza, intanto l'acqua continua a disperdersi fra gli scogli e fino a mare ai piedi della timpa.